Tre siglone shove estate Ciao a tutti amici iscritti e oggi ragazzi non recensiremo un cartone animato, ma, recensiremo la storia di Cartoonito è stato nel canale 46 del digitale telestre e adesso vediamo il promo sta arrivando, è carbonito il nuovissimo canale tutto dedicato ai più piccoli colorato, vivace e divertente prossimamente starà con te 24 ore su 24 Ollie il sottomarino, il trenino Thomas la foresta dei sogni e tanti altri fantastici programmi nel nuovissimo canale interamente dedicato a te Cartunito, prossimamente 24 ore su 24 il nuovo canale per i più piccoli Cartunito è nato nel 2011 in originale è nato nel 2007 il canale di Cartunito che compie oggi i suoi 10 10 anni di trasmissione matutina pomeriggio e sera per cartoni animati più piccoli del mondo trasmesso si, è stato trasmesso in originale è stato trasmesso nel 2007 il canale è, lo trovate ancora adesso sul canale 46 del digitale telestre il canale di Cartunito era nato come 24 ore su 24 che i primi cartoni animati sono Lunar Gym il trenino Thomas Baby Looney Tunes l'armadio di Chloe la foresta dei sogni Giust in tempo poi Semi Bombiere e tanti tanti altri cartoni che hanno trasmesso nonché i suoi amici e poi lo danno quelli di adesso come Simone Key The Cats Paw Patrol Blaze come Peg Deer Squad e tanti altri cartoni animati che trasmessero da oggi su Cartunito e il canale ha compiuto 10 anni perché allora se mi è piaciuto il canale di Cartunito e a volte nei primi bumpers Cartunito lo davano con la televisione del tra poco e con i promo che lo davano a friccette per bambini è stato un diverente cartone che si ha trasmesso un po' con io e dunque la storia di Cartunito era bellissima fatta a losa diciamo la verità Cartunito è un bel canale per bambini per scolare dai 4 a 8 anni si Cartunito e Dira questo canale era bellissimo faceva tanti contenuti nevici patalosi eccetera eccetera ma Cartunito è sempre un bel canale Dira che poi nel secondo bumper nel secondo bumper fino ad oggi hanno fatto questi bumper nuovi secondo tv youtube i canali di Cartunito che adesso fanno con un nuovo bumper poi è diventato un nuovo logo di occhi neri e alla fine è diventato una sorta di contenitore hook che andrà in onda per i 10 anni di Cartunito Italia il 2021 ottome 2021 e trasmettono molti programmi come Bing Pocoyo eccetera 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 e i cartoni si andranno in onda nel contenitore di Cartunetwork Cartunito con un nuovo logo con il sorrisone qua occhi evitati qua e beh va bene tanti auguri Cartunito buon 10 anni a te tanti auguri e noi ci vediamo al prossimo video del canale di Polo Poli New iscrivetevi al canale mettete più mi piace condividete commentate se vi piace la storia di Cartunito ciao a tutti Cartunito il mio primo canale slogan slogan e dimenticavo hanno fatto anche ben sciandising ha fatto le riviste di Cartunito i Doki Doki Squishy Cartunito e una mania una mania una mania